Una scelta innovativa e di qualità a Chiara Valle Centrale. 2D, ricambi per auto, macchine agricole, movimento terra, autocarri e autobus. L'azienda garantisce i migliori oli, filtri e additivi nel settore auto, macchine agricole, autocarri e movimento terra. Esclusivista di zona, vernici industriali Sestrier. Da auto ricambi 2D, pneumatici per veicoli industriali, macchine agricole e movimento terra. Trattiamo le migliori marche e siamo esclusivisti di zona per BKT, prodotti per auto sportive. Siamo assortiti di kit motori, ingranaggi frame e alberi di trasmissione per qualsiasi veicolo agricolo e industriale. Prenotiamo qualsiasi tipo di ricambi, consegna in 12 ore. Auto ricambi 2D, incontra da Piano Serra, Vivio Clemenza, a Chiara Valle Centrale. Telefono 0967 98 12 53. Ci trovate anche a Satriano Marina, Viale Europa, località Laganosa. Vincono tutte le prime in prima categoria girone C e dunque rimane tutto in mutato in vetta alla classifica. Il Parghelia vince il primo set, per così dire, contro il Mileto. Un 6-0 che non lascia dubbi sull'andamento della gara, così come pochi dubbi ci sono nella vittoria della Vallata del Torbido contro lo Ierax. Impegno in trasferta difficile per il monasterace che lo supera brillantemente vincendo 0-1 a Badolato grazie a un rigore trasformato da Lombardo. Chi soffre di più invece è l'atletico Maida che vince il rimonto a 2-1 contro il Chiara Valle. Ospiti che, dopo aver perso da 0-2 a 3-2 15 giorni fa contro la Vallata del Torbido, riescono a farsi rimontare da 0-1 a 2-1 negli ultimi 5 minuti con le reti dei padroni di casa di Curcio ed Elaudi che stiamo vedendo nelle immagini. Il Capo Vaticano vince a San Calogero, mentre il Bivongi Pazzano ne rifila 7 al malcapitato Girifalco. Non molle il Caulonia che segna un poker al Pianopoli, così come il Fronti che vince 5-2 a Valle Ferita.